La vicenda della mancata apertura delle termi di acqui continua con un ricorso alle vie legali da parte di Regione Comune perché potrebbe configurarsi l'interruzione di pubblico servizio. E ancora una persona cieca torna a vedere con un intervento straordinario all'ospedale Molinette di Torino. Per le elezioni amministrative di Novi di Igure il 14 e 15 maggio prossimi oggi si è presentato Marco Barbagelata per la lista Novi Ti Voglio Bene. Bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura, l'ultimo aggiornamento nella storia delle terme di acqui che è costituito da un comunicato diffuso oggi pomeriggio dalla Regione Piemonte in cui si informa che è stato dato mandato a uno studio legale esperto in materia di concessioni di verificare se la mancata apertura delle terme può essere configurata con un'interruzione di un servizio di pubblica utilità e la lesione del diritto alla salute considerato che i trattamenti termali sono oggetto di convenzione con l'ASL e che vi siano danni all'indotto economico per la città e per gli operatori oltre a quelli di inadempimento che andranno quantificati. La decisione è maturata dopo che stamattina la nuova proprietà delle terme ancora una volta non si è presentata all'incontro organizzato e concordato nei giorni scorsi che doveva tenersi ad asti, quindi in territorio neutro. All'appuntamento c'era il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Sindaco di Acqui Danilo Rapetti, i direttori e segretari generali dei due enti. Sono risultati assenti rappresentanti della società che hanno fatto pervenire agli enti una lettera nella quale si fa riferimento al fatto che le questioni legali non devono più interessare Regione Comune perché sono legate alla vecchia amministrazione comunale e la vendita delle terme riguarda invece la precedente amministrazione regionale. Alla fine però il Presidente Cirio e il Sindaco Rapetti confermano la piena disponibilità ad avviare un confronto con la proprietà nel segno del dialogo. Quando mi sono risvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita della mano è stato come nascere di nuovo. Queste sono state le prime parole di un uomo di 83 anni che vive in provincia di Torino affetto da due gravi e diverse patologie della vista che l'avevano condotto alla cecità da sei anni che dopo essere riuscito a recuperare la vista dall'occhio destro che già da due settimane è stato operato nell'ospedale Molinette gli permette di riconoscere gli oggetti, i volti e di muoversi autonomamente. Il paziente aveva perso da 30 anni la vista dall'occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e negli ultimi dieci anni aveva progressivamente perso la funzione visiva anche dell'occhio destro ma per una patologia cronica rara. In questa operazione per la prima volta al mondo è stato realizzato un autotrapianto dell'intera superficie oculare prelevata dall'occhio sinistro comprendente non solo la cornea ma anche una parte di sclera e tutta la congiuntiva comprese le cellule staminali dell'imbus. A Novi Ligure si avvicinano le elezioni per il nuovo sindaco della città, tra i candidati anche Marco Barbagelata con la lista Novi Ti Voglio Bene, sentiamo Fiammetto Merlo. Presto a Novi Ligure si tornerà a votare e tra gli aspiranti sindaci c'è anche Marco Barbagelata conosciuto in città per numerose iniziative come quella che ha riguardato la valorizzazione del parco del castello di Novi. Barbagelata ha presentato la propria lista alla ex caserma Giorgi Novi Ti Voglio Bene insieme ad Azione e Italia Viva cercando di unire destra e sinistra per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Novi è in un momento particolare, un momento difficile, non è morta, è in sala di rianimazione e noi abbiamo intenzione di portare un cuore nuovo, noi siamo una formazione che ha un carattere cittadino non ha un carattere politico, io sono una persona di idee perché vengo dal mondo del marketing e sono una persona del volontariato perché sono stato presidente della Proloco fino a ieri io ho voluto dare le dimissioni per lasciare libera l'associazione da non essere collegata alla cosa abbiamo una serie di punti molto significativi che vanno gestiti secondo un progetto molto ampio un progetto ampio che comprenda tutta la città io essendo un uomo in marketing so che mi pongo un obiettivo e lo voglio raggiungere. Le vicende degli ultimi anni che hanno visto la caduta della Giunta Cabella con il commissariamento del Comune hanno scottato particolarmente i novesi che ora si trovano ad affrontare una nuova e difficile scelta dalla quale dipendono le sorti della città in crisi ormai da alcuni anni e che ha visto un degrado sempre maggiore per il quale le risposte sono state poche. Barbagelata si dichiara pronto a fare tutto il possibile perché finalmente arrivino le soluzioni tanto attese dai cittadini. Oggi c'è stata la cerimonia ufficiale di intitolazione della nuova caserma dei carabinieri di Fubini Alessandria alla presenza del vescovo di Casale Moferrato e della famiglia Caprotti Sentiamo Cristiana Zanetto Da oggi la nuova caserma dei carabinieri di Fubini che si trova in via Roma è stata intitolata al maresciallo capo Salvatore Spano insignito dalla medaglia di bronzo al valore militare alla memoria a testimonianza di un paese che non dimentica il sacrificio costato la vita al sotto ufficiale Il maresciallo capo Spano era in servizio nel 1943 in Sardegna quando intervenuto per sedare il saccheggio di un negozio veniva ucciso con un colpo di moschetto Spano si era sposato nel frattempo con una ragazza di Fubine paese doveva svolto per breve tempo nel 1926 il ruolo di comandante della stazione Da qui la decisione di intitolare a lui la caserma La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari del vescovo di Casale Moferrato e delle associazioni d'arma e combattentistiche accompagnate dalla fanfara del Terzo Reggimento Lombardia Dopo gli onori alle massime autorità la consegna della bandiera nazionale donata dal sindaco di Fubine al comandante della stazione Carabinieri La nuova caserma di Fubine ha potuto vedere la luce anche grazie al generoso interessamento della famiglia Caprotti, proprietari dei supermercati S. Lunga Bernardo Caprotti da oltre 20 anni aveva una residenza proprio a Fubine estremamente riservato, non partecipava alle manifestazioni del paese ma ad una richiesta d'aiuto da parte di Fubine dopo lo sfratto dell'altra caserma aveva risposto comprando un immobile adiacente alla vecchia stazione dei Carabinieri Con pochi dipendenti, polla tumultuante che saccheggiava un negozio Nei tre minuti con di Maurizio Selvestri oggi parliamo del futuro del ponte sul torrente Piotta delineato dal sindaco di Lerma Bruno Aloisi Allora ci troviamo a Lerma, signor sindaco buongiorno Io quando lo chiamo lui è sempre qua, prontissimo a rispondere perché qui è successo un pandemonio, io ho sentito, hanno fatto petizioni non vogliono chiudere il ponte, ma non è che lo facciamo per gioco o no? Cosa sta succedendo? Basta, sta succedendo che l'hanno presa troppo la lettera con delle cose non vere perché poi alla fine è uscito fuori di tutto fuori quello che doveva uscire che lo sapevo io perché la richiesta di ripristino del ponte l'ho fatta io come comune a suo tempo, la provincia è la prima volta che accetta e si dà da fare per mettere in moto tutta la macchina tanto è vero che il primo bilancio della provincia ha messo la cifra che è 1 milione e 200 mila Euro a bilancio per ripristinare il ponte, il ponte non è che va giù il ponte ha dei problemi sulle ringhiere laterali dove io ho visto 4 incidenti con le macchine che erano a sbalzo che andavano giù nel fiume e la cosa principale era quella poi c'è una pila diciamo qui verso l'erma che nel 77 praticamente ha avuto dei problemi ed era stata ripristinata così con un po' di cemento e basta e poi all'entrata del ponte sulla linea verso la rocchetta manca un pezzo di scarpata che è andato giù che è da rifare quindi ricapitolando state calmi perché qui la gente quando sa una notizia la ingrandisce in un modo impressionante quindi il ponte va messo a posto logico se diventa un ponte doppio è ancora meglio soprattutto per tutti quanti vedo che ci passano anche dei tir non solo delle macchine normali la questione dei tir è una cosa gravosa io sono 13 anni che scrivo alla provincia tutti gli anni dicendo che dalle armi i tir non dovrebbero passare un po' per il ponte un po' perché inizio paese abbiamo tutte le fogne sotto e tutte le tubature delle acque bianche che prendono tutto il paese e passano tutti lì con delle tubazioni da 600 mm di diametro che a furia di passare si sono calcate a 400 allora grazie con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti e state calmi allora parliamo di sport per il calcio vi ricordo l'appuntamento di domenica l'Alessandria torna a Moccagatta per ritrovare la vittoria tra le mure di casa e giocherà contro il Florenzuola alle ore 14.30 nella pagina sportiva invece parleremo di ciclismo e della serata organizzata dagli amici del Borgo in occasione della presentazione del volume L'Italia che vuole scritta dal giornalista Marco Pastonesi ce ne parlerà Fabrizio Matà grazie 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 grazie